E' già uscito negli Stati Uniti il film The To-Do List, commedia diretta da Maggie Carey interpretata fra gli altri da Aubrey Plaza, Johnny Simmons, Bill Hader. Il titolo iniziale, The Hand Job, cioè masturbazione, era stato bocciato. Brandi Clark è una ragazza così ambiziosa che si propone di avere successo anche nella vita sessuale, oltre che negli studi, e si impegna in modo scientifico nell'affare. Come si dirige un cast così? Sentiamo. Sento che gli attori hanno il lavoro più duro, perché ci sono cose, diciamo quelle che scrivo anch'io nel soggetto, che poi devono essere messe in pratica da loro, devono essere attuate. Ci sono questi momenti che diventano una sfida. E' comunque imbarazzante interpretare una commedia. La Plaza interpreta appunto la Clark, la protagonista, che decide di trascorrere l'estate post-diploma correndo la cavallina sessuale con la complicità delle amiche. Insomma, anche per un film così ci è voluto un po' di coraggio interpretativo. Devo ammettere che mentre giravo le scene avevo molto sostegno del cast, è stato molto carino, tutti, anche la regista autrice che era alla barra. Probabilmente apparivo spaventata per quello che dovevo interpretare. Mi sentivo comunque compromessa nel gioco da fare. Non ci sono per ora date previste per l'uscita del film in Italia. Puta il tuo top back on. Oh, mio Dio! I have bigger boobs than you!